Per almeno un anno non potrà più esercitare la sua professione e dovrà tenersi ben alla larga dai suoi piccoli alunni. Questo ha deciso il Tribunale dell'esame di Bari in merito al caso di una maestra di 47 anni dell'Istituto Comprensivo Statale di Mattinata, ritenuta responsabile di maltrattamenti nei confronti di diversi bambini tra i 2 e i 5 anni che frequentavano la scuola materna. La misura interdittiva è stata eseguita dai carabinieri e dispone il divieto temporaneo di svolgere le mansioni di insegnante ed educatrice sociopedagogica per una durata di 12 mesi. La drammatica vicenda venne a galla verso la fine del 2018 quando il dirigente scolastico dell'Istituto si rivolse ai militari spiegando di aver ricevuto segnalazioni da parte di alcuni genitori allarmati dai racconti dei loro figli circa i comportamenti violenti dell'insegnante. Così scattarono le indagini che grazie alle telecamere installate in classe e alle intercettazioni ambientali riuscirono a documentare decine di episodi di maltrattamenti da parte della maestra ai danni degli alunni minacciati ed umiliati quasi quotidianamente. La donna spesso si rivolgeva ai piccoli con frasi agghiaccianti paragonandoli alle bestie e insultando anche le loro madri. Nel rimproverare i bambini l'insegnante si lasciava andare a minacce e pesanti volgarità e in alcuni casi dalle parole si passava alle mani con le vittime strattonate prese a spintoni e colpite con schiaffi e calci oltre che bersagliate dal lancio di diversi oggetti. Mesi di maltrattamenti che avevano fatto cadere i bambini in un profondo stato di terrore e soggezione psicologica tanto da non voler più andare all'asilo per paura di incontrare la maestra sino a quando uno di loro non ha deciso di chiedere aiuto a mamma e papà.